Il 24, 25 e 26 febbraio, ovvero durante e dopo le tanto attese consultazioni elettorali del 2013, le edicole di tutta Italia saranno in sciopero. Niente informazione cartacea dunque durante i giorni del voto. La decisione presa dai sindacati di categoria è motivata dalla prolungata assenza di regole certe richiesta a gran voce dai sindacati stessi. Con la carta stampata in crisi anche le edicole accusano il colpo. Per i sindacati circa 30.000 persone rischiano il posto. La decisione arriva dopo giorni di protesta inascoltata dalla classe politica e soprattutto dalla mancata riforma dell'editoria, promessa da diversi governi e mai realizzata.